Come leggere il probabile arrivo di migranti nelle nostre zone? Ci sono dei rischi? Quanto tempo rimarranno sul Tirreno-Cosentino? Perché arrivano tutti in Italia? A queste e a tante altre domande ha risposto nel fine settimana a Praia Mare Maurizio Alfano, esperto in politiche della migrazione. La tavola rotonda è stata promossa dalla referente territoriale di sinistra italiana Francesca Sansoni, che ha organizzato l'incontro pubblico esodi ed incontri, l'immigrazione tra accoglienza e indifferenza. Da più settimane infatti si discute di questi arrivi anche nei comuni di Praia, Tortora ed Aieta. Ognuno ha preso posizione. L'esperto in materia ha permesso di comprendere cosa significa questo fenomeno, sempre più attuale. È un fenomeno, come ogni fenomeno, sicuramente va seguito, va meglio regolamentato. Le politiche dell'accoglienza e dell'integrazione devono essere molto più chiare ci devono essere meno volontarismo, meno pressapochismo. Soprattutto ci deve essere un approccio molto più concreto rispetto a uno che è uno dei fenomeni più vecchi al mondo, che è quello dello spostarsi lì dove ci sono le condizioni di produzione della propria specie. Siamo insieme alla Sicilia, poi alla Calabria, e nello specifico per esempio il porto di Reggio Calabria, il terzo porto del Mediterraneo per sbarchi di profughi o di migranti che arrivano. Per cui noi siamo la porta verso l'Europa. Come porte verso l'Europa non possiamo diventare paradossalmente poi un carcere. Purtroppo le politiche che attualmente, come dire, cercano di regolamentare quello che è un fenomeno antico come quello dell'emigrazione sono diventate politiche securitarie. Ovvero scendi, sbarchi, ti metti su un pullman e ti chiudi in un casso. Questo significa farsi cogliere alla sprovvista. Potrebbe essere quindi quello che diceva lei, un problema, un'emergenza, ma fenomeni strutturati che sono ormai vecchi di decenni, perché abbiamo avuto le primavere aree e ancora prima abbiamo avuto altri furzi migratori, non possono essere di anno in anno continuati a essere, come dire, gestiti in maniera emergenziale. Per cui c'è bisogno di uno scatto ulteriore di politiche che vadano nella concezione di accogliere maggiormente. In realtà il problema, il tappo, il collo di bottiglia in Calabria, non è tanto soltanto la politica nazionale che anche in questo momento, diciamo, sta segnalando alcune criticità, ritornando indietro anche su alcune conquiste fatte, ma è l'Europa che non riesce a fare il riparto. Nuovi ingressi e politiche di integrazione sono spunti di riflessione anche per Norina Scorza, candidato sindaco di Noi per Praia, il cartellone politico organizzato con sinistra italiana per correre alle comunali 2017. Il ricercatore ha spiegato che per un comune lo straniero può essere una risorsa redditizia, riportando il caso di Acqua Formosa. È ovvio che nei paesi piccoli o medi che siano, ma la dimensione dei paesi calabrese è molto piccola, preparare le comunità, preparare l'amministrazione comunale, preparare le scuole, preparare le parrocchie, preparare la società a un nuovo modo di vivere la città o il paese il giorno dopo, con l'arrivo di decine o di qualche centinaio nei casi dei casi di migranti, è una cosa che deve essere messa a tema, deve essere fatta. Capisco e non voglio segnalare come problemi di razzismo, se in una piccola comunità, svegliando, si trovano cento extracomunitari che qualcuno possa anche avere qualcosa a ridire. Ci sta, perché le persone vanno preparate, soprattutto nel momento in cui le informazioni sono molto manipolate, molto deformate. In realtà che cosa accade? Che sono una grandissima risorsa. Le faccio un esempio, c'è un comune piccolissimo, forse tra i più piccoli della Calabria, Acqua Formosa, appena mille abitanti, ha da parte dello Stato come trasferimento sulle spese di competenza, 250 mila euro, cioè 250 mila euro per pagare gli stipendi, i servizi. Però per l'accoglienza che fa dei migranti con lo Sprar, 40 migranti, ha un'entrata annua di quasi 400 mila euro, cioè guadagna quasi il doppio del trasferimento dello Stato. Ma guadagna nel vero senso la parola, perché poi nella stragrande maggioranza lavorano persone del posto. O si regge con l'economia che si crea sul posto, che possono essere le pizzerie, i bar, gli appartamenti che vengono fittati. È ovvio che se c'è il comune che scende, come dire, in campo, che si candida, che predilige l'accoglienza, che è lo Sprar e non il casso, questa economia è un'economia che è partecipata. E che quindi crea anche, perché no, una maggiore, come dire, integrazione. Perché poi ci potrebbe anche essere banalmente il papà di una ragazza che lavora in uno Sprar che incomincia a prendere anche le difese, seppur di parte in un primo momento. Poi magari si convince che è anche una cosa buona fare accoglienza. Dall'altra parte i cassi invece sottraggono, perché è un privato e cerca di economizzare o anzi di privare dei servizi e quelli creano sicuramente poi problemi sul territorio perché potrà vedere dei ragazzi che girano anziché essere in aula a studiare l'italiano o anziché essere in un'altra parte per fare le cose per cui sono pagati. Grazie.